Anche nei momenti di criticità è la festa della Repubblica. Il 2 giugno è la festa degli italiani, la festa più importante per ricordare quel 2 giugno 1946 dove il popolo italiano seppe scegliere con la forma repubblicana e quindi dobbiamo fare in modo di ricordare sempre alle giovani generazioni che questo è un grande privilegio per noi, è un grande motivo di orgoglio e anche di conservazione dei patrimoni nostri di democrazia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.